In questa nuova parte di trasmissioni di Rita 101+, vogliamo ricordare che nei messaggi che abbiamo lanciato via Skype alle tante ricercatrici italiane abbiamo chiesto di suggerirci un progetto di ricerca da finanziare. E perché no finanziarlo con alcuni soldi legittimi che potrebbero aspettare alla ricerca legati anche in qualche misura a qualcosa che sta avvenendo di pericoloso nel nostro paese. Ecco perché abbiamo qui Carlotta Zavattiero. L'Italia è un paese di giocatori, giocatori d'azzardo. Perché non è proprio del tutto giusto dire Stato biscaziere? Perché lo Stato in realtà non ci guadagna. Gli italiani l'anno scorso nel 2010 hanno investito in giochio, quindi vuol dire slot machine, gratte vince eccetera, 61,4 miliardi. 61,4 miliardi. Che sono sul totale di una cifra complessiva di 800-900 milioni di euro, miliardi scusate, legate ai consumi. Cioè vale a dire che questi 61,4 miliardi di spesi in lotterie eccetera scommesse equivalgono a 7% della spesa dei consumi. In realtà si parlava certamente i soldi che lo Stato diciamo in camera vengono spesi. Però a me preme ricordare che per esempio il decreto Abruzzo oppure anzi il gioco 10 e l'8 che adesso è pubblicizzato da Bisio era nato proprio per favorire la ricrescita oppure la ristrutturazione della città dell'Aquila. Su questo tema però l'ultimo dato Zavattiero è questo 7%, non so se riusciamo a vederlo nello schermo dal computer ed è incredibile. Il 7% è la spesa complessiva dei cittadini nel 2010, fonte sole 24 ore, per quanto riguarda i consumi privati quindi di questo tipo di gioco. Sì, sono i cosiddetti giochi a soglia bassa si dice. Giochi a soglia bassa. Esatto, che vuol dire questo è il grande rischio perché per esempio sappiamo i casino e insomma è inutile che ce la raccontiamo sono frequentati da gente abbastanza ambigua, la casalinga non andrà mai a casino a giocare. Invece sono sempre di più le tabaccherie in cui ci sono le anziane. Lo Stato, il gioco è entrato prepotentemente nella vita degli italiani. Quanto riguarda i finanziamenti queste cifre sono impressionanti, difatti pensate questi 9 miliardi che lo Stato va a incamerare attraverso questi giochi sono più di quanto non spenda in università, in tutte le università, gli atenei italiani e in ricerca ogni anno. Rilevavo prima appunto che sono due mondi completamente all'antipo di quello del gioco d'azzardo, c'è di un'Italia che gioca moltissimo e di una fascia diciamo di persone che usano il cervello. Il grande equivoco è che si pensa che il gioco sia qualcosa di socialmente utile. La ricerca, pare un mondo a sé, piazzato là la professoressa parlava di antimateria, sono cose che invece ricadono nella vita quotidiana e quindi c'è un grossissimo equivoco. Questa ingerenza dello Stato sul privato senza contare internet è una cosa eticamente secondo me non valida, non buona. In realtà il gioco d'azzardo proprio ormai è provato scientificamente, crea dipendenza e di conseguenza il fatto che lo Stato pubblicizzi incentivi a giocare è assolutamente insostenibile. C'è una maxi multa che sembra sia stata ormai esplicitata. Sì, sono oltre 90 miliardi mi sembra di euro che dovrebbero pagare alcuni concessionari allo Stato. Noi vogliamo questa sera lanciare quindi questo messaggio partito da qualche giorno a tutte le ricercatrici e ricercatori all'ascolto di scriverci la loro storia, proporci un progetto di ricerca e anche quantificarlo questo progetto di ricerca e paradossalmente denunciare quello che sta avvenendo su questo tema del gioco d'azzardo e anche di questa quota che in realtà anche le aziende legate al gioco d'azzardo dovrebbero dare all'erario che non è stata ancora versata e che potrebbe essere versata per la ricerca. Io sarei favorevole a questo. Zavattiero che ha studiato la materia è favorevole e quindi... Ah sì, direttamente proprio, in ricerca. In ricerca, tutto in ricerca. Grazie a tutti.